cari amici noc buon natale abbiamo qua un panettone no non è un panettone è semplicemente una scatola di 100 anni una robetta proprio semplice semplice guardate che roba scritta voilander segni del tempo dappertutto però questa scatola che ha 100 anni è ancora qua direte è una scatola vuota ci sarà il panettone dentro eccolo qua questo è un panettoncino di fine anni 10 stiamo parlando di un eliar 42 centimetri f4 e 5 5 lenti in tre gruppi in quasi 20 anni lo schema eliar si evolve passa dal dinar e poi comprimendo un po tutto quello che l'insieme delle lenti interne e rendendolo quasi perfettamente simmetrico da vita al nuovo eliar che è imparentato con altri schemi otici altri obiettivi tipo l'aposcopar questa modernizzazione fa porta a un miglioramento anche della luminosità perché abbiamo un obiettivo che è un 4.5 immaginatevi un'apertura del genere su un 21x27 perché copre al massimo il 21x27 se il vostro banco ottico riesce a sostenerlo ma volete coprire ancora di più come massimo massima grandezza della dell'emulsione andiamo sul 26x31 del 48 cm che più o meno è cugino è un po più grande potremmo chiamarlo quasi il fratellone del 420 mm che vi ho fatto vedere poco fa e niente sono due ottiche appunto da mega banco ottico neanche medio formato neanche largo formato larghissimo se le volete gli abbiamo qua disposizione le abbiamo in negozio in vendita le trovate sul sito potete prenotarle preferiremo un ritiro a mano visto il peso visto l'ingombro però speriamo anche altrimenti se volete in qualcosa di più piccolo abbiamo un normalissimo cinquantino o anche un 50 asser blood un po più piccoli no ciao